beccati in fragante ciao io sono stefano e benvenuto in questo nuovo video di intanto in thailandia come al solito prima di passare la notizia ti invito a iscriverti al canale cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video inoltre volevo sempre invitarti se vuoi iscriverti al gruppo telegram di intanto in thailandia di cui trovi il link sotto in descrizione quattro persone arrestate e multate per aver violato il coprifuoco il capo del distretto di china ha dichiarato che quattro persone sono state arrestate dai militari di un checkpoint appunto a china i nomi di queste quattro persone non sono stati rivelati per privacy è inoltre il capo ha aggiunto che i militari sono obbligati a fermare controllare è del caso arrestare le persone che viano il coprifuoco in quanto se non lo fanno sono passibili di negligenza quindi finirebbero loro tribunale i quattro arrestati sono stati portati in tribunale è originariamente era stata data una pena di un mese di reclusione e 30 mila bat di multa da pagare ciascuno ma siccome si sono dichiarati colpevoli la prigione è stata dimezzata a 15 giorni gli è stata dimezzata anche la multa da 30 mila a 15 mila bat per questa notizia è tutto ti inviterò a lasciare un like condividere questo video sulle social e inoltre ti inviterei anche a iscriverti al gruppo telegram di intanto in thailandia di cui trovi il sotto in descrizione su dai non fatti pregare dai che poi cosa sono pesante e noi ci vediamo il prossimo video